ciao sono angelo russica responsabile di milan fashion campus un istituto di moda localizzato qua a milano prima di introdurre i corsi di milan fashion campus avrei piacere di introdurmi personalmente dopo gli studi fatti qua a milano nel campo della moda o diciamo iniziato la mia avventura in questo mondo qua come assistente presso lo studio giorgio correggiari molti anni fa dove all'interno di questo ufficio stile avevo conosciuto anche domenico e stefano di dolce gabbana dopo due anni di questa esperienza ho avuto l'occasione di essere uno degli assistenti nell'ufficio stile di gianni versace dove sono rimasto dentro per quattro anni e mezzo dopodiché mi sono trasferito in spagna dove ho diciamo ho collaborato ero diciamo all'interno di un grande gruppo spagnolo che è il corte inglese in duico dove ero responsabile di diverse linee dopo questa esperienza in spagna mi sono diciamo ritrasferito qua a milano e ho aperto un ufficio stile dove davo delle consulenze a delle aziende italiane come il gruppo marzotto gruppo max mara miroglio veste bene ma anche aziende straniere come il gruppo world in giappone in svizzera in in cina dopo questi anni di diciamo di esperienze che ho fatto sul campo della moda ho deciso di aprire la prima fashion school online italiana dove vendevamo dei corsi online in tutto il mondo dopo dopo diciamo questa piccola diciamo avventura dei corsi online abbiamo ricevuto molte richieste dove ci veniva chiesto di fare anche dei corsi qua a milano e questa è un po' una piccola diciamo introduzione mia personale adesso invece vorrei introdurre diciamo milan fashion campus e vorrei parlare un pochettino di quello che facciamo adesso qua a milano in che cosa ci distinguiamo con le altre scuole con gli altri istituti qua a milano ci distinguiamo perché diamo importanza diciamo alla qualità del diciamo dei programmi abbiamo messo all'interno di questi programmi tutta la mia esperienza che ho fatto come diciamo come come responsabile prodotto come designer negli anni passati e creato dei corsi che siano veramente utili ai ragazzi e che non diciamo che non vadano a perdersi in questo mondo fantastico della moda che alcune volte rimane molto fantastico ma bisogna essere anche molto realistici ci distinguiamo anche perché abbiamo solamente non mai più di 12 studenti qui in classe ok perché diamo importanza al one to one cerchiamo di seguire i nostri studenti da molto vicino abbiamo diciamo sei ore di classe al giorno da lunedì a giovedì quali sono i corsi che abbiamo qua milano fashion campus abbiamo tutti i corsi diciamo di fashion design fashion design donna uomo ma anche accessori intimo costumi da bagno abiti da sposa e anche il corso di trend forecasting il corso di cool hunting il corso che insegna a prevedere a individuare le future diciamo tendenze ma anche diciamo molto importante per me almeno è il corso di collection design è quello che diciamo simula la realtà di lavoro quello che uno trova un domani nelle aziende è quello di saper impostare e disegnare delle collezioni questo vuol dire saper diciamo lavorare anche con i tessuti abbinare il giusto tessuto al diciamo al figurino al modello che uno vuol creare non come singolo disegno ma anche come struttura di collezioni molto molto importante questo per quanto riguarda la parte diciamo di creatività design e trend forecasting poi chiaramente abbiamo il corso di fashion stylist consulente d'immagine che è diviso in due parti uno per il personal fashion styling aiutare le persone a vestirsi e la parte diciamo di fashion stylist più editoriale dove un domani lo sbocco è all'interno di redazioni di moda comunque essere capace più a seguire dei shooting a lavorare per delle pagine web diciamo ci sono due mondi fashion styling personale e editorial fashion styling inoltre abbiamo anche un corso che diciamo è quello dello shooting dove tu sarai la persona che organizza il diciamo il percorso di uno shooting e crea il concetto ti porteremo nello studio fotografico professionale qua a milano e avrai a che fare con la modella col fotografo con la make up artist sarai tu a dirigerti il tuo shooting personale il percorso più completo è chiaramente il nostro fashion master styling and design course è una combinazione di corsi che ti introdurrà nel campo della moda in una maniera professionale in un tempo relativamente breve della durata di quattro mesi e diciamo è il percorso pre confezionato da parte nostra che è quello che inizia a normalmente verso ottobre e verso febbraio due volte come avete notato qua milano fashion campus non abbiamo il corso di confezione ma neanche quello di carta modello perché riteniamo che diciamo chi fa il carta modello e la confezione debba frequentare altre scuole che siano specializzate in questo campo noi ci riteniamo forti nella parte creativa nella parte concettuale nella parte diciamo della impostazione del diciamo del prodotto o delle collezioni spesso ci scelgono perché prima di andare a spendere 20 30 mila euro diciamo diretta in certe scuole le famiglie sono intenzionate diciamo a capire se il loro figlio se la loro figlia è veramente interessata in questo campo e ci scelgono anche soprattutto per i corsi brevi per dare diciamo la possibilità a loro figli di scoprire questo mondo prima di affrontare delle spese diciamo astronomiche chiaramente prima di spendere un sacco di soldi nella formazione bisogna forse oggi come oggi avvicinarsi capire se il settore che veramente ti piace e capire se un domani avrai anche le possibilità di poter entrare in questo mondo prima di andare a spendere appunto delle cifre mega diciamo mega forse è meglio iniziare step by step passo per passo comunque se diciamo hai paura se non ti senti sicura di diciamo entrare in questa in questa realtà non ti preoccupare con noi hai la possibilità di scoprire questo mondo ti seguiremo passo per passo anche se dovessi scegliere diciamo dei percorsi brevi dei corsi con la durata di un mese o di due tre mesi non ci sono problemi noi in tutti i casi ti aiuteremo ti seguiremo passo per passo grazie a tutti